Il progetto 50x50, capitale al quadrato di Pesaro 2024, varca la soglia di aprile e lo fa con un passaggio di testimone. Quello da Gabice Mare, che ha traghettato il progetto fino a Pasqua, e quello di Monte Calvo in Foglia, che lo ha riavviato da Pasquetta. Sarà una settimana piena di contenuti, perché abbiamo voluto approfittare di questa settimana, che sarà dal 1 aprile al 7 aprile, per mostrare le bellezze del nostro comune Monte Calvo in Foglia. Cosa ci aspetta? Ci aspettano delle mostre d'arte. Avremo due mostre, una a Cagallo, dal maestro Giulio Serafini, che avrà in esposizione delle opere di arte calcografa, che nella sua attività sono state commissionate da artisti importanti, marchigiani, come Valentini, Pomodoro e tanti altri. Più delle opere personali del maestro Giulio Serafini. Poi abbiamo nel capoluogo a Monte Calvo in Foglia, proprio Monte Calvo all'interno del Burgo, un'altra mostra del maestro Giancarlo Sardella, che ha avuto anche fra i suoi clienti, sempre nella sua attività lavorativa, anche lui questi artisti che ho elencato prima, questi artisti famosi. Diciamo che gli artisti sono gli stessi, ma essendo di periodi diversi, le opere sono diverse. Inoltre, in località Casino Sole, verrà aperta la casa del giornalista Gian Battista Vicari Busetto, un noto giornalista che ha diretto un caffè letterario, il giornale letterario che si chiama Il Caffè. I visitatori potranno ammirare le sue opere, perché quando era a casa dipingeva, e anche tutti i ricordi degli articoli di questo famoso giornale. Ma non solo, non solo perché vogliamo mettere in mostra anche il nostro paesaggio, la nostra natura, l'ambiente che ci circonda, che è il nostro, diciamo, anche fiore all'occhiello, non avendo grossi, grandi musei. Infatti avremo due eventi di passeggiate ecologiche, una all'interno dell'Oasi Labbadia, che è un'oasi di Natura 2000, L'altra, diciamo, escursione sarà seguita dal Cavirginia, il nostro Bike Hotel, e non solo, che, come d'abitudine, con i ciclisti di e-bike farà da guida, portandoli a visitare il borgo e il territorio, i nostri calanchi, e non solo. Poi un'altra peculiarità di questa settimana, perché abbiamo voluto fare un programma gestito insieme a tutti gli attori del territorio. Abbiamo coinvolto anche tutti i nostri, diciamo, esercizi commerciali e turistici, che si sono trasformati in palcoscenico, per ospitare quegli eventi che magari andavano fatti in un teatro, avverranno, diciamo, avverranno all'interno di questi locali. Siamo molto felici di come Montecalvo ha interpretato questa settimana da Capitale, perché integra la perfezione, quello che è il programma da Capitale, che si svolgerà a Pesaro in quella settimana, in puro spirito, 50 per 50, viene riproposta anche in due appuntamenti, il Cosa C'è DOP, che sono questi aperitivi in due locali del comune, in cui osterie e bar diventano anche avamposti di informazione rispetto a quello che accade nella Capitale, in particolar modo Montecalvo con la settimana, ma in generale, e soprattutto attraverso le DOP e gli altri prodotti certificati della nostra filiera agroalimentare, ci sarà la possibilità di fare aperitivi alternativi, e soprattutto accorciare quella filiera di consumo tra gli agricoltori, produttori e il pubblico, grazie anche all'apporto dei bar e dell'osteria.